Buonasera, anche questa sera a tutti voi che ci seguite, oggi è 17 maggio e qui benvenuti quindi su Libri.tv. Iniziamo questa serata con la consulata virgola, io sono Gianni Colacione e volevo fare una piccola riflessione con voi che mi ascoltate e che poi rivedete questo spazio come anche gli altri registrata sul sito, sul canale di Youtube, parlandovi di un particolare che riguarda le elezioni amministrative e comunali, in particolare qui nella città dove abito, ma insomma una cosa di portata abbastanza generale. Libri.tv vi ho offerto anche su questo delle interviste ad alcuni candidati, quindi siamo in piena campagna elettorale con l'abbondanza di slogan di ogni genere promesse da parte dei candidati sfidanti, mentre da parte dei candidati già sindaci uscenti spesso possiamo ascoltare o leggere delle bizzarre ricostruzioni di ciò che hanno fatto. Insomma la classica atmosfera pre-elettorale di talica tradizione. Fatta questa premessa sono andato a vedermi un po' le modalità di voto su un sito istituzionale, modalità di voto per la città in cui vivo, cioè per una popolazione superiore a 15 mila abitanti. sono delle regole che riguardano queste città più grandi e le regioni a statuto ordinario e la Sardegna. Oltre a tutte le varie indicazioni su come apporre il segno, il voto disgiunto e così via, ho notato che sono possibili due preferenze per i consiglieri comunali. Se si vuole usare quindi questa opzione, bisogna appunto apporre due nominativi, però devono essere di sesso diverso. E allora mi sono soffermato a pensare che questa prescrizione evidentemente si richiama a norme di tipo etico, cioè quelle stesse che sono alla base del sistema delle quote, rosa, gialle, verdi, arcobaleno, ma comunque quote. L'eguaglianza cioè, e in questo caso uomo-donna, perché evidentemente è fatto per promuovere appunto la presenza delle donne all'interno degli organi legislativi o nell'amministrazione eccetera, quindi la presenza dell'eguaglianza dell'uomo-donna è imposta da leggi che regolano le partecipazioni a organi e incarichi pubblici e ne prescrivono una presenza esattamente identica. Inutile dire che a me non piace questo tipo di pensiero guida, non vedo perché l'elettore se lo ritenga opportuno per il suo comune o municipio o quello che è, non possa votare per due candidati dello stesso sesso, uomini o donne che siano. Io sempre inutilmente opino e ritengo sia una limitazione della libertà di scelta. La composizione peraltro del Consiglio Comunale è importante e la quota di rappresentatività di genere al suo interno dovrebbe essere lasciata appunto come libera scelta dell'elettore, anche perché l'elettore cittadino è colui che sarà destinatario delle deliberazioni del Consiglio Comunale e per questo meriterebbe di valutare liberamente se indicare nelle due preferenze chi più considera meritevole come consigliere a prescindere da una questione di genere. Può accadere che siano anche due uomini o siano due donne. Non si raggiunge con dei mezzucci simili rispetto della parità di genere. Ritengo anzi che pensieri guida o pensieri ispiratori di questo tipo siano un freno al processo di maturazione culturale che porta alla effettiva parità di opportunità per i due generi e di presenza anche appunto nell'amministrazione, nei vari organi che sono a direzione dei poteri pubblici e degli enti pubblici. Una maturazione culturale che è l'unica cosa secondo me che può essere efficace e su cui bisognerebbe investire per il futuro. Il sistema delle quote è quello del ghetto, del ghetto che alimenta l'identitarismo di genere, uno strumento di rivendicazione sociale decisamente obsoleto, appunto altrove ormai abbandonato. Peraltro non so che garanzia di comportamenti equi rispetto al genere possa fornire un'amministrazione che si trova ad avere un bilanciamento perfetto in termini di genere, perché l'effettività del sentito non è verificabile, solo in virtù di una norma di tal genere. Perché in pratica, peraltro il sindaco di Roma mi sembra che su questo è già stato sanzionato per la presenza, non è uno degli assessori, gli assessorati, se il progresso culturale effettivamente del sentito è l'obiettivo, non è appunto con questo tipo di norme che in realtà prevedono in modo troppo troppo veramente specioso, bisognerebbe anche prevederlo allora anche per le amministrazioni, appunto i municipi, le amministrazioni di condominio, tutto dovrebbe essere allora specificato in questo senso, per avere un bilanciamento identico. Mentre invece è importante secondo me che la parità uomo tra gli esseri umani, che poi secondo me non dovrebbe neanche essere necessario specificare nel genere, sia sancita da norme di carattere generali, quali la Costituzione, quali la dichiarazione di diritti umani e così via. A completare il quadro a chiusura volevo comunicarvi anche l'aspetto sanzionatorio, perché c'è un aspetto sanzionatorio di questa norma. Se l'elettore fornisce le indicazioni di due nominativi dello stesso sesso, la seconda preferenza verrà annullata, ovvero un pezzo della volontà dell'elettore sarà ignorato. Questo mi sembra assolutamente esegrabile, mi sembra inoltre che pochi siano almeno a Roma gli elettori a conoscenza di questo vincolo a cui devono attenersi, quindi attenersi appunto a piena dignità di una parte del proprio voto. Spero non diventi una prassi comune legare in generale l'indicazione di doppio candidati alla parità di quota di genere rappresentata, sarebbe un vero bonus. Evidentemente queste norme sono state pensate soprattutto a vantaggio delle donne in Italia, notoriamente poco presenti nelle istituzioni, per colpa di molti amministratori che le discriminano, amministratori però che spesso sono supportati in partiti in cui lida sono votati anche da molte donne. Sono state quindi elaborate regole per la presentazione delle candidature, già appunto elaborate e in qualche modo rispettate, candidature col bilencino, ma evidentemente non è bastato e adesso anche il voto di preferenza deve essere ispirato al principio della quota. Io spero che si riescano a far sentire le donne, e sono molte, a cui questa logica delle quote non piace, della riserva. Una logica paternalistica, moralistica e antietica, volendo essere etica. Una logica che potrebbe dare il via a pericolose generazioni, perché in materia di generi e di intorni, preferenze sessuali, razze, tutti i vari cavilli che hanno dato fonte a varie forme di discriminazione e di razzismo, ecco, si può spaccare il capello all'infinito e alla fine la volontà dell'elettore si dovrebbe ad essere annullata da una logica di quote, quotine, quote di quote e leziosaggini simili. Siamo tutti uguali, ma purtroppo mi sembra di capire che siamo i primi a non crederci. Detto questo, mi congedo appunto da questo maniloquio, ringraziando Donato per la regia di questa serata, come delle altre. Vi ricordo che LibriTV è un'associazione che si sostenta da sola e sarebbe ovviamente utile e prezioso per noi che vi iscriveste. E passo a illustrarvi il paninsesto di questa sera. Dopo la virgola del direttore, alle 20.45, lo spazio Società Libera. Torna appunto la conversazione con Vincenzo Olita, direttore di Società Libera e questo spazio sarà condotto da Marco Marchese. Alle 21.15, lo spazio Certi Diritti, homo-transfobia, il razzismo nel nuovo millennio, così abbiamo intitolato questa trasmissione e oggi ricorre appunto, se non sbaglio, sia oggi la giornata contro l'homo-transfobia. Questo spazio che è curato, come di consueto, da Riccardo Cristiano, dell'Associazione Radicale Certi Diritti, sarà una conversazione con Gianni Geraci, del Guado, gruppo di riflessione e riflessioni su fede e omosessualità a Milano. Alle 21.45, voci transnazionali e parleremo di Siria. Avremo, tornerà ospite di Libri TV, una persona che appunto vi già conoscete, che è Shady Amadi. Parleremo della questione siriana, giornalista appunto Shady Amadi ed esponente della comunità siriana in Italia e parleremo, oltre che appunto di alcuni aggiornamenti sulla vicenda siriana, quindi politica internazionale in qualche modo, anche di un libro che lui ha scritto che si chiama La Felicità Araba, storia della mia famiglia della rivoluzione siriana e vedremo un pochino, parleremo di questo libro, ci illustrerà di cosa si tratta. Alle 22.15, a tavola con i libri, I demoni del potere di Marco Ravelli, la terza 2012. Questo è il titolo del libro, oggetto appunto delle note di lettura di Giancarlo Calciolari. Alle 22.45, sperando appunto che tutto vada bene, che quindi riusciamo a rispettare gli orari, è prevista la chiusura delle trasmissioni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi consiglio di continuare a seguire le trasmissioni di Libri.tv, con me ci vediamo alle 21.45 con voci trasnazionali. Grazie ancora, restituisco la linea alla regia.